Salve a tutti amici, sono Mr. Dellerick, ben ritrovati. Sono qui a fare questo video per ricordarvi che questa sera alle 21.15 saremo in live come ogni lunedì sera. Vi presenteremo quali sono i nostri nuovi personaggi per il nuovo gioco di ruolo e quali saranno anche gli ospiti presenti. Purtroppo stasera Elantir non riuscirà ad esserci, ma presenteremo comunque anche il suo personaggio e dal lunedì successivo dovremo cominciare la nuova partita con il nuovo gioco di ruolo. Quindi ragazzi vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, ci conto e ci vediamo questa sera. Ciao ciao!